Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Droga, spaccio, mazzette di soldi e insulti a Martina Colombari. Sono questi gli argomenti delle ultime condivisioni su Instagram di Achille Costa Curta. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web e dopo un paio di giorni il profilo del ragazzo è stato misteriosamente chiuso. Cosa si nasconde dietro questa scomparsa improvvisa? La polizia postale è al lavoro per indagare? Fanpage Witt ha cercato di contattare il rappresentante della famiglia Costa Curta Colombari, ma non ha ottenuto alcun commento riguardo alle ultime azioni di Achille. Si è limitato a dichiarare, raggiunto da Fanpage Witt, il rappresentante di Colombari e Costa Curta ha preferito non commentare. Secondo quanto ha preso Fanpage Witt, la polizia postale si starebbe occupando di chiarire quanto accaduto. Intanto il profilo Instagram di Achille Costa Curta è stato disattivato. Mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla chiusura del profilo Instagram di Achille, che potrebbe essere stata causata da un hacker o da altri motivi, sorge spontanea una domanda. Qual è il rapporto tra Achille e sua madre Martina? La Colombari non ha mai nascosto che il loro legame è fatto di alti e bassi, con più bassi che alti, per essere sinceri. Non condividono gli stessi punti di vista e spesso finiscono per litigare a causa dei guai.